ciao allora oggi vi voglio parlare di questa crema viso della geomar si tratta della crema lenitiva idratante con fiore bio di altea 95% di ingredienti di origine naturale il prezzo è di 4,95 euro e me lo sono segnata per 50 ml di prodotto guardavo dice qualcos'altro in più senza parabeni, siliconi, coloranti, oli minerali e profumo senza allergeni allora la crema, allora me la mostro, nel confezione in vetro oltretutto l'ho completamente finita devo dire che ultimamente la geomar mi sta davvero stupendo perché crea delle prodotti viso e corpo fantastici, molto validi con un inci buono, ha un prezzo perfetto senza però avere fatti negativi quindi io le trovo fantastiche la profumazione di questa crema, si me la ricordo, è delicata ma comunque sia non persiste sul viso la texture è meravigliosa, almeno sulla mia pelle mista, io la applico alla sera e di giorno uso solo il siero alla sera io applico questa crema, ne basta poco, si stende bene, ha una texture leggera, si stende bene, assorbe immediatamente idrata fantasticamente il viso, fantasticamente non si dice comunque sia, idrata benissimo, il fetto lenisce si, soprattutto dal freddo se stendo ad essere un po' la pelle irritata oppure che tira perché sono stata al giorno al freddo o con il caldo secco del riscaldamento, fantastica oltretutto l'applico alla sera e alla mattina, anche se ho la pelle mista non la trovo lucida, quindi davvero io voglio provare altri prodotti di questa linea perché ne ho provata una, questa è la seconda, ma ce ne sono delle altre prezzo di 4,95 euro davvero è ottimo per anche se fosse il prezzo che loro consigliano 4,99 euro, comunque sia è fantastica soprattutto alla sera perché è un po' più ricca e davvero non trovo lati negativi nessuno perché davvero io ve la straconsiglio, ne voglio provare altre ma comunque sia tornerò ad acquistarla perché mi trovo benissimo e non mi resta che chiedere a voi se avete provato questo marchio, cioè la Geomar oppure qualche crema viso di questa linea e come vi siete trovate io ve la straconsiglio e l'ho già detto come sempre fatemi sapere se avete provato un altro prodotto, sì e come vi siete trovate mi raccomando se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni beauty e mi raccomando di cliccare anche lì sulla campanella così vi avrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video soprattutto di questi low cost e alla prossima, ciao!